Come ho detto nel video precedente che avrei caricato, il video che avevo registrato il 30 gennaio, guardate che inverno, non c'è un pelo di neve e parlevamo già della siccità che saremmo andati incontro, che stiamo vivendo in questo momento, proprio per l'esperienza un po' mia, un po' sua, con i suoi 91 anni. Dicevo, qua avevamo parlato tutto in occitano perché a Mariuccia si trova meglio, è più aperta, racconta volentieri, in italiano rimane un po' imbarazzata. Comunque vi lascio alla visione, spero che riusciate a capirlo. Mettere i sottotitoli è un problema, uso solo il telefono, non uso PC e poi comunque ci vuole un sacco di tempo e ne dedico già abbastanza, anzi molto, è più che un lavoro andare in giro a fare video. Questa è Mariuccia della Grangetta, 91 anni, buona visione. Ciao ragazzi, oggi sono a Borgata Grangetta, sono venuto a trovare Mariuccia della Grangetta, della classe 31. Adesso vado a scambiare due parole, mi faccio raccontare qualcosa dei tempi della guerra. Lei aveva 12-13 anni, giù sullo sfondo c'è San Damiano. Beh, come si è Mariuccia, parli con i ciappelli, parli con i ciappelli, parli con i auti, ero se di sua città. Ciao Mariuccia, saluto i miei amici. Dizia 6-31, 6-31, quindi ha fatto 91 anni. 99 anni non lo dice di mai. E se è nei suoi sì, ha quello caso qui, se è mai a navio? Mai a no. Eh, beh, ero, andiamo a vedere, di là e d'arri si è vero il paio, eh? Ja. Paremmo a far vedere un teistos di bel, in avanti. A me da con i miei, di un avio e niente. Ah, è fatto bene, tengo ma tutto. Eci, le Luventou, come funzionavo? Eh? Come funzionavo, Luventou? Allora, qui è l'Amanuello, la facendira. L'Amanuello si abitava, sì. Per passare la roba. E proprio attraver le... E attraverla la roba musese, e calavo di sì. E scampavo fuori l'appaglio del canto. No, no, l'appaglio qua, la grano. La grano, teniva la grano. Voi che vieni con il cavallo, mi hai provato un po' e mi sono piantato santo. Ma senti Dio, che è. Qua sono già l'idea qua, qui? Già, che è. Deciabre nas, papi? No, no, no. Io vengo da 96, perché mi camminavo papi? Mi camminavo sposto a fare le protesi. Mi ho condivido il bastone, e quando si è installato la seconda curva a Rio, e io arrivo qui all'ora, ah, ci ha mandato per tutti. E io vengo Beppino, che l'era vicissendic, e Dario dal Pongolet, che l'era un tacco di via, e io vengo buonanima detto Nino, che l'era fanno chiantando i bari. e io, Dario e Beppino sono vengono a trovare me, saluto a me e a via Gianni, non mi diceva che l'ha venuto e lo sai. Non mi ha detto, ma che l'ha venuto e l'architetto è la regione. Mi ha detto, santo Dio, venuto, venuto a Villione. la regione, che si è caldata, poi venuto insieme. Come venuto insieme, qui mi come l'hai vista, e ho detto, oh la Madonna, santo, l'ho nevo' dei giorni del 6. L'ho nevo' dei? Dei giorni del 6. L'ho nevo' arquettato? E mi hai detto, ma ci ho potuto calare, e d'altro, e gli hai detto, se la regione vuole bene, che voglio bene, se no, non è bene, in queste mie condizioni, e vengo, fai rangiare la via, chi ha la via, e dice, l'ordine, di che lo fremo, che vengo mai più a Ciamina. Ebbene, chi è venuto, e ha preso, la ciappa, che ha il figlio di Sant'Antoni, e le tomalinche. Ecco, ti coi, ah se, e lo dico, no, per, gavarlo. Ma ciò che ne vengo ricco, Silvano. Ah, lo sai, lo sai, mi ero venuto, perché ti ero picciotto, e ti ho già portato, di gente, e va ai verrucchi, come se cia a me. E che lo figlio, gli è pennavi io. Sì, sì, gli avevo in passà, gli avevo in passà, sì, sì, sì. Ebbene, apre mi portavo, ciappi, e mi vengo io, di me pensavo, perché tu vengono a Ciamina, e a te le dissi, se non c'è la la diame, ci ho telefonato, e di che lo vorrei di gente, e apprezzo, hanno telefonato con il Lombardi, e gli avevo l'ufficio secondo Rivero, sì, sì, sì. E ti telefono, e la basta mia, e di di, monti, fio con mamma. Mi vengo diretta, l'era un tenestato, per la terra, e la sgaba. E la sgaba. Te lo chappava Mario, l'home di Mariuccio, a metà di ciambe. Ma va. E poi che le vengo Mario. E no. Eh. Eh, fai male. Allora, abbiamo io, to facendo vedere un po' di paia. Tanti dì, vengo, i dottoresi, tutti usano. Sì, sì, sì. Tutti usano, bello questo, che la farmacista, io a dici, il missionario, se tu un po' di chielo, mi ha dici, di, è vero che, segno il fuoco di Sant'Antonio, mi ha detto sì, chi è che te l'ha detto? E in attacchi che crei, neanche. Ma crei i prei re. Eh, lo sai, lo sai. E i medici. Eh. Marta, mongio, due o tre volte, le vengono da me. Ah, non sei proprio. E i carabini, ecco, usano. Eh, non è Mario. E mi ha detto, ma Mariuccia, Mariuccia, sei una santa. Ciao, chichu. La quina, non ho fatto, non ho fatto, non ho fatto, E' simpatico, oi, 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 oi. Proprio bello. essä, se io non ho fatto, e voi non ho fatto, e voi non ho fatto, oi, 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 oi. E l'auto nuove, l'auto nuove ci sono un burdello, un burdello, con il telefono. Dime, che sorprendi a prendersi, se lo sai viviente. Poco apprezzo sento il turno, la madonna ma cresciva per cosa. Visco un tempo con lo faro, ma all'amantia vi un cingh di cingh che aveva lo cacco. Que cosa bianca? che i bianchi e ne ho te più schiura qui ieri in tre perché sono quelli di Rosetto dal Buisin che li hanno perduto e l'auto sarà tre caggiori e poi li hanno perduto e li hanno trovato e bene, ieri in qui ha quel grosso noi abbiamo visto l'auto sera e la Margherita ieri e abbiamo preso un canale Vilar e ieri sera li hanno trovato a Cartigliano perché se avessi visto il bianchi se l'auto in me non mi hanno visto il bianchi era una femmina ebbene, conoscei i bianchi e mi avevo Luca mi diceva i bianchi non mi hanno trovato mi è po' tu non mi è? vai ma, vai ma, mi ti vado a dare vai ma a dare mi ricordo che altrimenti mi senti le ciambre già che però tu sai che mi è piura? a dare il mio? eh ho credo da minà nei suoi agenti bestie e mi ha visto proprio da stare senza bestie e Silvano se ha giocato ma è una bella compagnia eh mi vieni mi cia tu la roba guarda, io sempre San Demian e si ha sbittato le jame di coni per fare l'ort e l'ort lo fanno anche sempre? eh? l'ort lo fanno anche sempre? si si e mi ha pianto i tortifoli ah sapo come ho i bianchi mi ero buoni con i bianchi hai malalassino o tre bello? con la vango? un vango? no no mi ero come ho i bianchi e Mauro il Pondalbiale ero vengo qui perchè la frema parlava in giottaglia e la ciambo che avevo lo fizzano tanto si si e avevo pot passare? eh ben complimenti io ropi qui è il che è il mio conscrito ah si? eh? ah bo si è un conscrito come dìas di questo inverno si? a me dio mal che questo inverno questo sta sarà sarà duro a me dio mal che avevo i bianchi con le famiglie che avevano già non contavano i fracce 36 famiglie ai fracce avevano 36 famiglie? 36 famiglie ma da che anno? a me dio mal che avevo i bianchi eh ma più o meno qua colero dai si è arrestato dal 40 prima l'agguaro via ah 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 a prendere parlando l'agguaro ebbene ma ma mi mi è pianto perchè che mi penso di gli auti che mi tengo a prendere e mi ha preso la pausa ah 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 buono, sai, andate a caso, vai eh già che e come ti dà chi? e come ti ho venguiti a le schiappes e che lo... qual? qual? che campaggio alla meraglia che daré le schiappes Vengo il pialgo qui. È là. Campa giù a muraggio. E ora venivano di giù. Giù in giù, ma nelle banche. Euro, che d'euro, c'ha presi parei, i sopates, i verrai. Ma che d'embo, c'è un terro di peire parei, eh? È ben muraggio. Di male peire. Questo è mio portato a scuola. Sì. E si mangia tutto il mondo. La mattina di Stabia, vi ho cinque anni. Ma va. Eh, mancava che. Mi fai il giù manuale. Fai il giù manuale a cinque anni. E ti piavi. Euro, che d'euro, vinti anni, parla male per una cinque oculi. Ma la colpa è del peire maire, eh? Ma giocchi. E fanno più fa niente. Sì, hai il geragno. Beh, che sono ben fiori. Senti giù la primo. Stabida, in botta, a putrelle. Ma di gran fotografia, un po' c'è. Eh, ma tu sei un personaggio, eh? Per la valada. Beh, che be' il geragno. A me, però. A me, però. A me, però. A me, non c'è sempre più di fior. A me, non c'è un po' di più. A me, non c'è un po' di più. A me, non c'è un po' più matto. Ma fai, fai belle. Un po' di fior. Ma a me, ti sta da per tutte le fotografie che fai. Fai, fai allegria. Fai belle. E qui, A me, non c'è un po' di più. Mi. Arribu. Per me, si è un po' di più. Si è un po' di più, di credere la vinco, eh? L'an passato, saps? Lo fornè, m'accia pa'l febic. Eh? Al fornè? Era febari. L'an passato. I arriva un po' di più al telèfono. No, n'hi volo. Si ho stagà, era pa'l'115. Al telèfono hai visita al febic? Eh, d'altra unia, que el que m'ha responde, pare, que m'hi coneixia, perquè, que, vi ho detto ieri, ma mi ha detto ieri, ma mi ha detto ieri, ma io stavo tranquillo, che arrivò, ma me l'ho preso, ero in gioixi, con un camion dell'antincendio e due campagne volendo avere. Però hanno imbrusato. a loro, io avevo il calafiopo s'ha civerto, ma sono arrivato la svelta, saps? E, Luca mi ha detto, fa' attention del cambiello, mi porta il putagemi, e mi ha detto, ti entri il putagemi, e ti ne mi ha studiato, che me l'hai cattò. Ti, dell'istante, io fei un'una cazzo in melo. Cazzo in mila lire? Dai marino, l'era più grosso, saps? C'è che, un po' di burla già passato. Eh, perché che lo putagemi e mandi di scello, dove a te mamma, io prendo le ciambe? Sì, sì, invece sono scello di basso. Oh, mia, è piacchiello, non penso niente. Adesso ben vero. E vedi, ti dici, qua e la... Allora, tu, beh, 531, dal tempo dell'Aguaro, dal 40-44, come ti ricordi? Come ti attaccato quello? Io mi ricordo che avevo soldato a Castelgioletti. A Castelgioletti? A Castelgioletti? A Castelgioletti. Avevo soldato. Avevo soldato. Avevo soldato. Avevo soldato. Ma qual era? Dal 40 o Gioppiotto? Avevo partito dal 42 partigiano. 42-43? E, dopo, dopo il 40-41, che avevano la guerra della Francia. Ah. Nel 43-42 parlando della guerra della Francia. Ero femmino, adesso sono. Quattro zampieri che eserciò. Allora, quando avevo io, che molto veniva da Rosetta. Ah, dal Bussino. Quattro zampieri, con il mio carrià. Allora io dicevo che avevo desertato. M'ho detto così, qui avevo mostrato la via, avevo arriva qui si, mi disse a Naila e avevo difrati, avevo mal fatto esbruarsi. E la mia madre mi ha detto che avevo 5 anni più a me, ma l'era una testa matta o mai sapeva cosa fare. La mia madre mi ha detto che avevo scompagnato verso i fratelli. I miei mi hanno detto che fai e ti fai saltare. Perchè non mi ha detto che tu ci fai il mio carrià. Ti fai saltare il peggio a mano. Si è stravacci in giacca. Mi ha detto che mi fai saltare. E i miei compagni alla via di scompe. E i miei compagni alla via di scompe. E i miei compagni alla via di scompe. I miei compagni alla via di scompe. Ma a quale vien i carriassi in Mulle? Eh, che l'hanno venito in Don Sess. Ah, vien, sì sì. Eh, partì per la Russia. Hai capito. E i miei compagni alla via di scompe. E la via di scompe. E lo ha detto in te la via di scompe. Per la scompe. A scompe non aveva visto la casa di San D'Amico, no? Eh, già. Ma a mia l'hanno venita in euro. L'hanno venita in euro. L'hanno venita in euro. L'hanno venita in euro. L'hanno venita in euro, ma a mia l'hanno venita in euro. La guerra del 15. Ah. La ha venita in euro. Che be' ricorda. L'hanno ricorda. L'hanno ricorda. Dato un paio. Eh. L'hanno ricorda da papà. e l'urman dice se il calendario dice se salveno la guerra viene trovata la guerra è finita e mi dice sempre e dite un promettore o che sono morto o che viene più non abbiamo messo forse dal 47 o 42 già finito la guerra? finita però il sì come l'anno? dal 45 come l'è? finito e sta finito se rubito ah all'anno in mirro della granja di qui di steve ma tu dici i partigiani che avevano stai feriti che qui feriti eri all'anno e anche l'està feriti all'anno lo partigiani e avevano disarmato mentre l'autore avevano una pistola e ho tirato la capiandacchando ma che appra mi dici che avevano portato ici avvicinato ma qui le ero cantavano bruza e avevo Berto Chidario lo paire di Isolina che l'ho visto con Cesare che le mataria Vittorio si la palotta entra qui sull'io qui sull'io dare 3000 picciote velino che l'ho che aveva sposa Michele di sale si aveva tre canmese ferrari e ferrari paire romano Ah, il padre romano, il figlio Rudy, a mia età, Rudy. Ah, Rudy? Rudy, a mia età. Ebbene, l'està ferì però là, dal bial. Alla intì a Clodio, che calo, che va lì al prato del gianmetro. Sì, l'avaggio sotto. E i miei sono a Pialo, che lo portavano al Poncolet, perché erano giornate aperte, i lindins casi erano volviati. Ah. E chiedi a me per portare il Poncolet, madame assieme. D'accordo. Ma io non ho portato i lindins da lì e del mio barbo, per riuscire in acciambo. Ma perché, come dici, hanno bruciato prima a lui? Abbiamo bruciato prima, hanno bruciato il Trento del Lui. Lo Trento del Lui aveva bruciato a San Demiagno, si sono arrivato. Ma però sono passato per la via Lero. Abbiamo bruciato il Pio. Sono passato il Torcetta, mi bruciato. Ah. Sono calato. Que lo che le è passato così. Mamma, la conoscente l'avevo usato questo. L'eroende, sì. L'eroende che i fascistas. Ah. E sono montato qui darrere perché lo vio. Passato per la via Lero. L'eroende che l'avevo usato per fare il carino. Ah. E provi a bombardare? Lo 26 agosto. Agosto è bombardare? Eh, è bombardare. E sì, la mattina mi è qui in profonde parte. Ma tu di sì? Vedi gli aerei. Sì. Ma sì, l'ero per malo Trento del Lui. Che avevo fatto l'appare qui. Avevo quello Cicogno. Ah. La Cicogno mio padre la chiamava. L'ero, la Cicogno. La Cicogno. La Cicogno. E in modo che rimassero qui sul sud. Che portavano i divorzi. Avevano il papà. Il padre Michelangelo. Ah. Cin da l'ultimo padre di Filippo. E' un'autica di Brant. Lo nono di Sanz. Lo ricordi? Eh no, no, no. E' un'autica di 64. E avevano che vivono qui. L'autica era pasturata qui. Papà si è vivì. E lo sera papà lo trovavano. Aveva peluccia? Lo trovavano peluccia. Papà si è vivì. Mi sa che mi ricordo bene. Che l'ero al ricover. Che il che mancava la ciambo. Già nel costo. Ah, ah. Avevano le stampelle. L'ero salta in aere. Se la bombo. Eh. E al poi avevano il bombardamento. Il bombardamento. Il bombardamento. Il bombardamento. Il bombardamento. Il mancato il ponte. Ah, voleva il campaccio per il ponte. Eh. Eh. Allora. Eh. Eh. E venivano qui. Allora. Il bombardamento. Il bombardamento. Il bombardamento. Il bombardamento. E a sopra qui. Ha sparato qui con il canone. Con il canone. A sopra qui. Il castellulito. Il grangetto. Eh. No, qua. Il bombardamento. 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 che la facevano, io faccio anche il video qui, l'ho nato per il paese e la mia moglie avevano la prima visita a casa e vi sono intervistati con Giovanni Kidruvero e tu ci mandavi, vado a San Damián, Berto Cafferomo, vado a Mariuccia e Berto Cafferomo che dice niente, mi hai provato a parlare, che lo fa la prima guerra mondiale e la seconda chi era la seconda? però chi è le Dalvin? chi è le Dalvin? si è la prima, qui il 15 di giugno, ero picciolo, canto le finio è ben presa, chi è venuto a me e mi ha detto, però mi hanno mandato il domani del T, si, si ma i partigiani, i partigiani che è qui che mi ha detto si non, primo, come è che sei chiamato? i partigiani che è qui, che sono questa feria, che torni a caere, e mi come le che si chiamavano? io ero Cric e Croc e Amílcar, 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 Amílcar avevano tutto il supranombre, si, 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 si e i conosciam perché eravamo sempre qui e invece, ma si, gli auti che erano in autosquadro che erano andati? la prima squadra avevo i droni e però non avevo mai due che erano in pausa, gli auti però avevo Leo che ti ricordi che andavo su un anno? si, 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 si I genitori, le cucine, tutti già andavo dal pre卡 di Natale o negli Main a Croata fare il char o tutti i ragazzi, rip documentation. e avevo massa che avevo l'enciabalso dei porti, vendi ad abeggianne si messa e Gianni non voleva l'enciabalso di abeggianne, doveva vendere il portafogli avevo le mie fotografie e gli ho detto ma ti sei la grangetta, ti sei sfortunato che le mariucce l'era l'altra una pespa a lei, e di a mario ciò che si venga a tronare, non ne sapeva che era l'enciabalso e tu avevi 2 anni, tanto per mai donar fastidio ok, partigian, noi tutti avevamo da dire di mal di partigian è perché, per qui se ne sento edifici noi tutti avevamo da dire di mal di partigian e vengo di sarina torta si si, tanto sempre tratta bene e lo faci con il pan, qualche vino, qualche cosa e lo pan che da questa giurita lo faci così ah loro mi sentivano piacere la farina comunque si 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 però lo pan lo faci così, già che loro il bosco non avevamo pa i miei abitavano il bosco già che? e mamma abitavano l'olevare e avevano giovinato, venivano a pastare poi si fecavano la pasta, mamma faceva il pane e lo portavano al forno e venivano un po' qui perché si piavano la gente ma già che ma avevano colite, gialline si, non ho mai messo niente e venivano a piavano il bosco dal cusino a lei da padre di Elisabetto però venivano pagare ah piavano e pagavano? piavano e pagavano e benta e mi ero nei lai perché che mi calavo al viol se una piacere ma entravo ma me ah ah andavo in te caso me andavano la cusino e mi capavano il viol e poi mi dici mi dici che andavano sempre a pastore c'ha più a roba e portavano dei bietti io che al mamma se dico ma ti donavano isi i bietti? mi donavano che di Castaggoliti che di Castaggoliti ti donavano dei bietti e scritti? e scritti e mi è mai beccato che avevo scritto ah e poi sempre portato tu fai da da corriere da postino e di fatto sarei morti qui perché vicino alcuni lo lanciero prima cusino che era la lapida alla lei con Mario Giuseppe Giuseppe dentro della chiesa qui ah che è il monumento qui quella qui avrà tornato e poi alla fine prima cusino non ha mai il suo magno non ha mai detto come erano morti bella è bella e poi arrivavo là in bicicletta veniva con gli amici che veniva con la macchina come arrivavo là e criava la macchina è Spartigiano ma non ha mai sentito ma non ha mai sentito il partigiano vei così il vano ma non ha mai creito beh e avrei Don Giulio che è serra dice ah del pane lo facevano tutti da Carlin Finello mi ha detto mi che dal cestello faceva il caso mio caso mio caso l'era caso di mio e poi mio sì 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 però mi ho sentito la faccia ma che la faccia di sì ma di così che c'era c'era io mio Mario l'Eupai il Messie l'Eupai Renato era così Giannino eh no ma è così ah mi scuso ancora perché il video è tutto parlato in dialetto nostro citano questo video l'avevo girato il 30 gennaio 2022 e oggi siamo al 29 agosto non l'avevo mai pubblicato proprio per il motivo che volevo mettere i sottotitoli e altro però mi rimane troppo un casino, non uso il computer, faccio tutto col telefono spero che riusciate a interpretare qualcosa in base al video precedente ciao ciao